Come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo? Non è stato Dio a fare Rambo. L'ho fatto io. Sono Troutman. Colonello Samuel Troutman. Non è venuto a prendere il mio ragazzo. Il suo ragazzo? L'ho reclutato io. L'ho addestrato io. L'ho comandato in Vietnam per tre anni, Sheriff. Quindi posso dire che è mio. L'ho addestrato io. L'ho addestrato io. L'ho addestrato io. Se fa che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglie. Un uomo che è il migliore. Con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo, a vivere di quello che trova. A mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere. Punto e basta. Di vincere aggredendo. Beh, Rambo era il migliore. Il migliore DOG che siebbe. Il migliore. De vincere aggredendo. Di giocare. Grazie a tutti.